non possiamo abbassare la guardia. Eppure dobbiamo trovare soluzioni di convivenza con il virus, basate non solo su restrizioni, ma anche sul rispetto delle regole, in ottica di avvicinamento alla normalità. Perché oltre alla crisi sanitaria c'è imballo l'economia di questo Paese, un Paese di piccole aziende e di settori come la ristorazione, il fitness e il turismo, che stanno pagando il prezzo più caro di questa pandemia, per cui non solo chiusure, ma anche aperture commerciali, controllate e regolamentate. Tutto questo potrà essere reso possibile in misura sempre crescente, dall'intensificazione dei vaccini naturalmente. Facciamo presto, Ministro, la tempestività è tutto. Servono azioni forti e soprattutto servono aiuti concreti ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà. L'Italia non può aspettare, è il momento di rialzarsi. Ministro, alla luce di questo richiaro il voto favorevole della nostra componente. Grazie, Presidente. Grazie a lei, Onorevole Lapia e Onorevole Fornaro. Grazie, Signor Presidente. Signor Ministro, lo dico subito, non ci appassiona un dibattito che si è sviluppato in questi ultimi giorni tra continuità e discontinuità, tra rigoristi e aperturisti. Non ci convince perché è fuorviante e pericoloso. Credo che da questo punto di vista occorra continuare a tenere la barra dritta, continuare a seguire con coerenza, pazienza e serietà il principio di precauzione. Continuare ad avere prudenza, cautela, lo stesso schema, la stessa logica, lo stesso comportamento che hanno tenuto e stanno tenendo i principali Paesi europei. Occorre avere l'onestà intellettuale, l'umiltà di abituarsi a confrontarsi con i dati e non con i topic trend di Twitter. Per sconfiggere la pandemia occorre avere una capacità e una velocità, perché come giustamente lei ha detto, Signor Ministro, il tempo non è una variabile indipendente, ma bisogna avere la consapevolezza che questa sarà una battaglia lunga, che è una battaglia lunga, che siamo dentro l'emergenza sanitaria e dentro la pandemia. E gli stessi che hanno protestato vivamente per la mancata riapertura delle stazioni sciistiche, pur comprendendo evidentemente le problematiche che si sono arrecate a quel settore e che dovranno trovare risposte economiche nel prossimo decreto ristori. Bene, noi saremmo stati se avessimo seguito certe argomentazioni e certe dichiarazioni nel paradosso la settimana scorsa di riaprire gli impianti sciistici in alcune province del nord e poi alcuni giorni dopo, su richiesta dei governatori, trasformare quelle stesse zone in zone arancioni rafforzate. E allora non si può governare pensando ogni giorno di lisciare il pelo da questo punto di vista a un'opinione pubblica che va invece educata da questo punto di vista con parole di verità. Noi siamo sempre più convinti che c'è una vittoria sanitaria, che solo la vittoria sanitaria è in grado di garantire la ripresa economica. Siamo, lei l'ha detto, all'ultimo miglio, accogliamo questo ovviamente come un auspicio e qualcosa più di una speranza, ma al tempo stesso proprio negli ultimi tornanti, come nelle gare ciclistiche, come lo sport ci insegna proprio le ultime curve possono essere le più difficili, le più faticose, perché è comprensibile una stanchezza del Paese, è comprensibile una fatica di operatori, di cittadini, è comprensibile la rabbia dei ragazzi, è comprensibile la difficoltà che arriva dalla didattica a distanza. Insomma, dopo un anno siamo stanchi, è giusto dirlo, è giusto ammetterlo. Sarebbe sbagliato non dire la verità, ma proprio in questo momento, proprio perché siamo agli ultimi tornanti, le polemiche disorientano. Noi siamo assolutamente d'accordo con lei, signor Ministro. Occorre dire parole di verità, cioè che non siamo ancora usciti, che stiamo intravedendo in lontananza l'arrivo, ma è ancora lunga, è ancora lunga e proprio perché siamo ormai stanchi dopo un anno, questa rischia di essere l'ultima fase è anche molto faticosa. Però dobbiamo continuare ad avere il coraggio, perché da questo punto di vista c'è più coraggio a dire che occorre tenere una linea di rigore e non una linea aperturista. Dobbiamo avere il coraggio di non abbassare la guardia, di continuare a fare quello che si è fatto fino ad oggi, ascoltare gli scienziati, leggere i dati e le evidenze scientifiche e poi decidere, e non viceversa come qualcuno vorrebbe fare. Chiudo rispetto al tema del piano vaccini. È evidente che occorra accelerare, è evidente che da questo punto di vista occorre un cambio di passo in Europa, è del tutto evidente che da parte delle industrie ci deve essere il rispetto dei patti e degli accordi, perché se avessero fatto gli Stati quello che hanno fatto alcune industrie farmaceutiche saremmo qui ad urlare, sentiremmo urlare contro lo Stato, contro il pubblico, contro l'inefficienza del pubblico. Quando sono i privati a non rispettare accordi, allora, guarda caso, in molti casi ci troviamo uno strano silenzio. Ed è giusto quindi anche avviare una battaglia in Europa contro la brevettazione, interpretando i vaccini come un bene comune. Insomma, noi voteremo a favore della risoluzione, le chiediamo di maggioranza, le chiediamo, signor Ministro, di continuare sulla strada tracciata fino a ora, cambiando quello che c'è da cambiare come giusto, ascoltando le istanze che arrivano dalle regioni, dalle imprese, dalle associazioni dei cittadini, in una logica di collaborazione ed ascolto, ma continuando però a tenere la barra dritta. E la barra dritta per noi è e rimane l'articolo 32 della Costituzione.